Giuseppe De Michele, per tutti Pinuccio, era vento, uno sberleffo fugace all'affannato terzino avverso che se lo perdeva dopo la finta inebriante e la corsa fulminante sul fondo. Era un ala destra a ruolo destinato a voli fantastici e prodigiosi, colonna del bitonto che artigliò la quarta serie a cavallo fra gli anni 60 e 70, forniva preziosi assist agli attaccanti altitonanti dell'epoca. Di lui mi parlò con commossa gratitudine per i gol segnati il grande Franco Chimenti, poi re della San Benedettese in Serie B e sovrano della riviera della Città delle Palme. I loro figli maggiori, Guglielmo, altro inafferrabile talento, fratello del terribile puntero Antonio, e Antonio, che sarà poi portiere della Juventus, erano addirittura coetanei. Anzi, proprio i bianconeri pare che si fossero interessati al caracollante Pinuccio, ma come per tanti figli estrosi della nostra terra e di quegli anni grami e difficili, non se ne fece nulla. Eppure, gli spalti grigi del comunale, che era ancora un fazzoletto di terra riarsa, si coloravano dei sogni e delle passioni dei bitontini che lo assiepavano gioiosi il di di festa. De Michele era un enfant di upaè, come tanti, e penso al portiere dei mille voli Giovanni Di Mundo, l'elegante Alberto Perrini, il sagace Antonio Sblendorio, il geometrico Mario Licinio, apripista per tanti virgulti che esordiranno nel quarto campionato nazionale per merito e non per una norma che li impone. Essi innervavano quella formazione che tutti ricordano a memoria ancora oggi. Pinuccio, che per l'andatura basculante veniva soprannominato Pinguino, come capita persino ai pedatori sudamericani eccelsi, aveva sangue nero-verde nelle vene e dopo aver illustrato anche alcuni centri viciniori con la sua classe, fu allenatore, maestro e lanciò tanti ragazzi di belle speranze. Negli ultimi tempi una brutta malattia ne aveva minato la solidità di atleta, che con un filo di voce ancora narrava gesta epiche, ed era struggente vedere il compagno di un tempo Tonino chinarsi verso Pinuccio e abbracciarlo con fraterno affetto. Da quando nell'autunno del 2017 la morte crudele rapì questo trasvolatore sublime delle aree di rigore, ogni domenica un soffio di vento, come il respiro di un'ala, carezza e fili d'erba sull'erta di via Megra e racconta storie scritte nel cuore di tutti i tifosi nero-verdi. Grazie a tutti!